Buongiorno. Nella parasha di questa settimana, Shemini, ascoltiamo quello che molti noi ebrei considerano un comandamento determinante nell'ebraismo. Il maiale è impuro per te, non ne mangerai la carne. Quindi, a noi ebrei non è permesso mangiare carne di maiale. Niente salsicce, niente chorizo, niente prosciutto, niente andui, niente saucisson, niente mortadella, niente maiale sfilacciato, niente lardo, niente zampe di maiale, ecc. Sebbene tutto il cibo non-cachè debba essere ugualmente evitato, il maiale sembra avere un posto di disonore in quel pantheon. Come disse una volta un cinico, i gamberetti sono cattivi, ma il maiale è antisemita. Perché è vietato il maiale? La risposta semplice è, non lo sappiamo. È uno di questi comandamenti chiamati ho-kin, cioè comandamenti per i quali non abbiamo una spiegazione razionale. Ciò non significa che non esistano speculazioni sul motivo. In effetti, la speculazione sulle possibili ragioni dei comandamenti è addirittura una branca della letteratura ebraica. Rivediamo alcune di queste cosiddette spiegazioni. La Torah dice che non mangerai carne di maiale. Questo perché la carne di maiale, poco cotta, provoca una malattia chiamata trichinosa, che può essere fatale. Ai tempi biblici non sapevano queste cose, quindi Dio proibì semplicemente di mangiare carne di maiale. Ora che lo sappiamo, tutto ciò che dobbiamo fare è cuocere il maiale ad almeno settantaquattro gradi, fino a quando tutte le porzioni rosa diventano bianche o grigie. Quindi possiamo mangiarne quanto vogliamo. La Torah dice che non mangerete crostacei. Allo stesso modo, i crostacei contengono potenti tossine che causano intossicazioni alimentari, quindi devono essere cotti accuratamente. Quindi friggete i crostacei per almeno tre minuti a cento novantun gradi e cuoceteli per almeno dieci minuti a duecentotrentadue gradi e potrete mangiarli a vostro piacimento. La Torah dice non adorare gli idoli. Beh, di certo credo che gli idoli siano stupidaggini. Sto solo facendo il possibile per essere socievole, con i miei vicini, quindi va bene. La Torah dice circoncidi tuo figlio. Ebbene, allora non sapevano che la zona sotto il prepuzio doveva essere tenuta ben pulita, per evitare infezioni e il cancro del pene. Ora lo sappiamo, e con la corretta igiene la circoncisione non è necessaria. La Torah dice siate fecondi e moltiplicatevi. E gli uomini non devono giacere con altri uomini. Bene, dobbiamo capire che allora c'erano pochissime persone sulla Terra e avevamo bisogno di popolare il pianeta. Quindi, questi comandamenti erano davvero necessari. Inoltre, le persone morivano prematuramente a causa di malattie, guerre, disastri naturali, ecc. Tuttavia, ora viviamo molto più a lungo, controlliamo molto meglio il nostro ambiente, e alcune regioni sono persino sovrappopolate. Quindi, questi comandamenti sono irrilevanti oggi. La Torah dice non stabilirti mai più nella Terra d'Egitto. La ragione è ovviamente che allora saremmo stati resi schiavi di nuovo dal faraone. Molto più tardi, dopo che i faraoni se ne furono andati dalla storia, gli ebrei tornarono in Egitto e furono al sicuro. Certo, nessun ebreo vive oggi in Egitto, perché sono tutti stati espulsi dopo le guerre con Israele, me incluso. Ma questo potrebbe cambiare. In ogni caso, possiamo ignorare questo comandamento in tempi in cui il governo dell'Egitto è amichevole. La Torah dice non fare sesso con tua sorella. Ebbene, la ragione per evitare la consanguineità è che vogliamo che i bambini abbiano il minor numero possibile di difetti alla nascita. Ma non abbiamo intenzione di avere figli, quindi va bene. La Torah dice non scoprire la nudità della moglie di tuo padre. Questo ovviamente significa solo non forzarla. Non l'ho forzata, ha scopresso la sua nudità da solo, quindi va bene. La Torah dice non prendere la moglie di tuo fratello. Di nuovo non l'ho fatto, si è data volentieri, non l'ho presa, quindi va bene. La Torah dice non sdraiarsi con la moglie di tuo zio. Beh, lo abbiamo fatto seduti e a volte anche in chiesi, quindi va bene. La Torah dice devi digiunare durante Yom Kippur. Il motivo è ovviamente per poterti concentrare sulla preghiera e sul pensimento. Ma, a differenza di te, io posso farlo anche quando mangio. E così via e così via. Si può sempre inventare ragioni plausibili e poi sostenere che i comandamenti non valgono più. Il Talmud era a conoscenza di questo penzio scivoloso e ci mise in guardia. Ha dato l'esempio del grande saggio re Salomone. Quando credeva di conoscere le ragioni di alcuni comandamenti, li infrangeva perché era sicuro di aver trovato un modo di soddisfare quelle che pensava fossero quelle ragioni, senza osservare i comandamenti propri. Cito. Rabbi Yitzhak ha anche detto. Perché le ragioni della maggior parte delle leggi della Torah non sono state rivelate? Perché in due versetti le ragioni furono rivelate e fecero inciampare il più grande del mondo, il re Salomone. Così è scritto nella Torah, il re non prenderà troppe moglie. Così il suo cuore non sarà allontanato dalla Torah e verso l'idolatria. Così il re Salomone disse, prenderò molte moglie e non lascerò che il mio cuore si perversi. Eppure leggiamo nel Libro dei Re, quando Salomone era vecchio, le sue mogli allontarano il suo cuore. Di nuovo è scritto nella Torah, il re non acquisterà troppi cavalli per non far tornare il popolo in Egitto, che è il più grande mercato di cavalli. Perché il Signore ha detto, non tornerai in Egitto. Così il re Salomone disse, acquisterò molti cavalli e non farò tornare Israele in Egitto. Eppure leggiamo nel Libro dei Re che Salomone fece portare dei cavalli dall'Egitto e un sacco salì e un carro salì e uscì dall'Egitto per seicento citri d'argento. Maimonide conclude il suo Sefer HaMitzvot, il Libro dei Comandamenti, ammonendoci contro questo comportamento. Questa storia è una lezione per tutti. Se Dio rivelasse le ragioni di tutti i comandamenti, la gente troverebbe il modo di disubbidirli. Se anche qualcuno così grande e perfetto come il re Salomone può commettere l'errore di pensare di poter compiere l'atto proibito ed evitare la ragione alla base del divieto, tanto più le masse meno sagge. Certamente, se conoscessero le ragioni dei comandamenti, li ignorerebbero, dicendo «Questo è stato proibito o questo è stato comandato solo per tale e tale ragione. Posso evitare il motivo per cui è stato dato il comandamento e ignorare il comandamento stesso. In tal modo, l'intera Torah potrebbe essere annullata». Dio ha quindi nascosto la logica per i comandamenti. Tuttavia, non c'è un solo comandamento che non abbia una ragione e uno scopo. La maggior parte di queste cause e ragioni non può essere compresa dalle masse. Fine della citazione Quindi, il pericolo della trichinosi potrebbe essere veramente una delle ragioni per cui Dio non ha permesso di mangiare carne di maiale. Ma potrebbero esserci altre ragioni che non vengono cancellate da una cottura accurata. Forse la carne di maiale riduce il tuo quotiente d'intelligenza di una quantità troppo piccola per essere misurata, ma che si fa sentire dopo lunghi periodi di tempo. Semplicemente non lo sappiamo. Questo significa che è sbagliato per gli ebrei cercare ragioni per i comandamenti? Affatto! Rabbi Akiva ci dice nel Talmud che è una mitzvah cercare queste ragioni. Tuttavia, alla fine, non importa quale conclusione raggiungiamo, dobbiamo continuare a seguire i comandamenti. E non ci è nemmeno permesso di osservare selettivamente solo i comandamenti che pensiamo siano i più importanti. La Mishnà dice, cito, Il Talmud aggiunge, cito, il Santo, benedetto sia lui, non ha rivelato la ricompensa per l'esecuzione dei comandamenti. Quindi le persone dovrebbero eseguirli tutti fedelmente e non basare la loro osservanza sul valore di ogni comandamento. Non sai da quale dei comandamenti la vita nel prossimo mondo emergerà per te. In breve, l'ebraismo è un pacchetto globale. Funziona bene e continua a produrre delle brave persone. Dal momento che non è rotto, non bisogna aggiustarlo. Shabbat shalom.